Se risultano le spie autoritarie, quelli che tra noi, che ancora credono nell'umanità, e crede in noi. Si pianificò quel che era nell'aria, resta ancora un po' per reagire, per resistere. E quello che io so, pensato che però, un domani, sia libero e creatività, la voce libera, ti rivederà. C'era già la sua. Ma vanno in bilancio, invenire, quel che intendo, attuale oratò, o come reagire contro la città, ora o mai. E' la sua. E' la sua. E' la sua. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.